Non hanno perso la passione per la politica, anche se ora dichiarano di non avere alcuna velleità elettorale. Sono Francesco Baldarelli, ex parlamentare europeo e già sindaco di Fano, Cesare Carnaroli, ex sindaco di Fano e Tiziano Busca, ex assessore del Comune di Pesaro. Questa mattina hanno convocato una conferenza stampa per esporre il loro pensiero sul futuro della gestione della raccolta dei rifiuti, in modo particolare rispetto alla rinuncia di realizzare una nuova discarica sul sito di riceci, oggetto di una vera e propria rivoluzione da parte della popolazione residente. I tre hanno concordato su quanto riportato in un documento da Francesco Baldarelli, secondo il quale le scelte operate dalla società Marche Multiservizi di Pesaro, non solo si sono dimostrate sbagliate per la mancata trasparenza, ma anche per aver reiterato una cultura politica e amministrativa arrogante che farebbe riferimento a interessi territoriali ed economici ristretti. Criticati in modo particolare, sono state le scelte che hanno permesso lo stoccaggio nelle discariche della nostra provincia di tonnellate di rifiuti provenienti da altre regioni. La gestione dei rifiuti deve rimanere saldamente in mano pubblica, è stato detto, in modo che le tariffe e il rispetto dell'ambiente siano decise dal pubblico. Qual è dunque la soluzione? Secondo Busca, Baldarelli e Carnaroli, bisognerebbe creare una società di scopo tra Aset e Marche Multiservizi che in sintonia con la regione valorizzi il polo di Monteschiantello, una discarica che oggi sta causando non pochi problemi, soprattutto ai residenti di San Costanzo, vuoi per il cattivo odore, vuoi per il sospetto di emissioni nocive. Qual è la vostra proposta? La nostra proposta è che in questo momento così drammatico per la vicenda rifiuti, ma non solo, io ho accennato anche per il problema idrico dell'acqua, abbiamo la necessità che le istituzioni, le parti sociali, le associazioni di categoria, sindacato e i comitati dei cittadini riescano a trovare un confronto sereno per trovare il bandolo di questa matassa estremamente difficile e delicato. Prima di qualsiasi scelta, e in modo particolare da parte di Marche Multiservizi, di ALD, di ASET, comuni di Pesaro e Fano, bisogna attivare questo tavolo e capire come si affronta la vicenda dei servizi locali tutti insieme, non solo dei rifiuti, ma anche dell'acqua e del gas. Vorrei dire, per quanto riguarda l'acqua, che nel 2028 scadranno le concessioni e quindi i comuni potrebbero riprendersi tutta la gestione dell'acqua e siccome è una risorsa vitale, noi pensiamo che in questo momento sia utile che i comuni, riprendendosi la gestione diretta dell'acqua, possano costruire, costituire un consorzio e gestirla anche direttamente. E a proposito del confronto con le popolazioni, questa mattina sono intervenuti anche diversi residenti di San Costanzo, i quali hanno così evidenziato non pochi problemi causati dalla discarica di Monte Schiantello nel loro comune. Ma questo che è comprensibile, si capisce, è proprio perché forse nel corso di questi anni non sono stati fatti gli investimenti necessari per eliminare tutta una serie di inconvenienti.